Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Non è quello di farvelo conoscere perché c'è già un gameplay e penso anche una live, ma in realtà tenete conto un gioco che ormai a 5 anni è ancora in Early Access, costa 8,99€, è un prezzaccio, lo si trova anche a meno durante i saldi, ma la cosa più bella è il fatto che lo vedete in italiano, quindi il gioco non è in italiano ma è solo in inglese e tedesco, ma se scaricate dal workshop la mod avete il gioco in italiano. Ma tra l'altro anche qualora la traduzione non fosse aggiornata, mancassero dei file, tenete conto che è tutto fatta questa mod e sulla pagina Steam nelle discussioni gli sviluppatori spiegano come creare una mod da mettere nel workshop, sono tutti file di testo che potete correggere tranquillamente, quindi per i veri appassionati magari potranno metterci mano e migliorarla ulteriormente. Qua vediamo la città di Pine Street e No Time che cos'è? È praticamente ritorno al futuro, rivista, un pochino modificato per questioni di copyright, tuttavia vedete abbiamo la mappa, abbiamo il diario con tutte le cose da fare e praticamente quello che faremo ora è andare nel futuro. Per una storia che non sto a spiegarvi insomma però soffriamo anche di radiazioni quindi dobbiamo mettere la tuta, la conseguenza delle guerre atomiche. Questa è l'auto, vi ricorda qualcosa? Ho già messo l'uranio, nel vano dietro nella hood ho messo la tuta a smatta per maneggiare l'uranio, ho già una tannica di uranio finita e all'interno se non avete visto le live o il video insomma è tutto nuovo per voi. Qua abbiamo temporal physics, ok praticamente quello che dobbiamo fare è rimuovere credo questo chip che ci blocca il viaggio nel tempo e a quel punto possiamo andare a vedere che cosa ci dice di fare perché al momento dice dobbiamo andare nel 2014. Quindi inseriamo la data di destinazione e la inseriamo con non lo so facciamo luglio 07 25 2014 alle 10 di mattina. Sto digitando ok attiviamo i tempocircuiti a no ok me l'ha già preso inserita siamo nell'84 15 aprile e direi che siamo praticamente pronti e qualora il reattore che va attivato in questo momento andasse oltre i 300 Fahrenheit dobbiamo raffreddarlo non bisogna mai viaggiare sopra i 300 quindi andiamo in cooling. E abbassiamo la temperatura intanto magari usciamo dall'auto un attimo aspettiamo che scenda un po' di temperatura e poi faremo il viaggio nel tempo. La cosa bella ve lo faccio vedere giusto così ma il motivo di questo video è uno farvi conoscere il gioco se vi eravate persi il video secondo farvi vedere come cambierà la città non me lo ricordo onestamente però ci sono una serie di missioni potete andare nel medioevo potete vedere l'evoluzione di questa città o nel passato com'era. La indietro vedete che c'è un edificio in fiamme fa parte della storia ma non vi dico nulla. Ho sempre qua in mano questo circuito che ho appena tolto devo capire adesso come mollarlo lo lascio ok che cade lì ho anche il tema questo cosa qui questo non è tradotto ma sono teorie sul viaggio temporale. Ok dobbiamo aspettare ancora dobbiamo aspettare che scenda il il contattore tanto magari vado a prendere un po' di rincorsa. Pensate che la cosa bella di questo titolo è che se io viaggio nel tempo in un punto poi torno nel in quel minuto preciso in quell'ora precisa in quel punto e mi osservo da lontano mi vedo comparire nel tempo. Ovviamente questo potrebbe portare al game over qualora il nostro personaggio vada troppo vicino al suo alter ego del passato del futuro. Quindi questa è una cosa molto importante da tenere a conto però io ho osservato in città me stesso che comparivo e facevo determinate azioni quindi io non so come abbiano fatto a sviluppare una cosa del genere ma è bellissima. E se andate a vedere la live o il video che ho fatto su questo titolo adesso non ricordo lo potrete vedere in video dovete anche tenere conto della salute della fame e soprattutto appunto anche delle radiazioni che prendiamo ogni volta che viaggiamo e maneggiamo il l'uranio ora possiamo andare. Questa città anni 80 vediamo com'è nel 2014 Raffreddamento? Ok Ah queste case qui non c'erano prima Ma in che anno siamo? Ma non siamo nel 2014? E che cacchio ho sbagliato Mannaggia Ok vabbè adesso l'abbiamo visto Adesso acceleriamo un po' torniamo in cima e rimpostiamo perché ho sbagliato Cazzarola Dicevo andando magari nel futuro troveremo altri metodi per alimentare questa auto Quindi non saremo obbligati a usare l'uranio probabilmente Comunque c'è stato qualcosa di sbagliato Quindi voglio andare nel 2014 Infatti qua non abbiamo fatto il minimo salto perché è ancora in fiamme quindi non abbiamo fatto il viaggio Ok aspettiamo che si raffreddi Stiamo perdendo tanto di quel tempo che Freno a mano Rimettiamo la DeLorean Al punto giusto Ok stop Adesso inseriamo un dato di... Ah ok adesso l'abbiamo messa Tempo obiettivo Quello Ok credo possa andare bene Tuttavia dobbiamo andare a togliere l'uranio 0% Prendo l'uranio pieno Chiudo qui E vado a inserirlo Ok Adesso siamo a posto Chiudi la porta E non è settato giusto Adesso si E' settato giusto alle 10 Vediamo se funziona Non è acceso il reattore Ok adesso l'ho acceso Le cose fatte male Ok Ok Ho visto qualcuno che saltava là davanti Avete visto? Si vedeva a me stesso che... No sono io quello Eh vabbè Non ce l'abbiamo fatta neanche stavolta a saltare Però Quello lì siamo noi Quello lì siamo noi Siamo noi Dobbiamo... Siamo ancora nel 1984 Non siamo andati nel futuro Infatti vedete che adesso sto girando l'auto come prima Volevo fare una cosa... Vabbè E stiamo tornando indietro Stiamo tornando indietro E stiamo provando a risaltare di nuovo Ma pensa a te Ok No lo sapevo già ma è bellissimo No non siamo riusciti a impostare il tempo Però vabbè Questo ve lo lascio nel caso in cui vogliate La città cambierà Sia tipo medioevale Sia tipo Dall'uno dopo Cristo Diciamo fino al 2014 E ci saranno varie missioni Che chiederanno interventi In vari punti del Del passato del futuro E qui ci vuol far viaggiare nel 2014 Quando comunque troveremo anche L'uranio in vendita Nei vari negozi Infatti i negozi che troviamo ora Così come i vari PNG Con cui potremo interagire Saranno sicuramente diversi Di anno in anno Quindi Dobbiamo fare attenzione Adesso tecnicamente Dovremmo rivedere noi stessi Che riparte Perché siamo tornati indietro Di qualche minuto Credo Perché io adesso Se vado su Dovrei trovare me stesso Che sta ripianificando tutto E sta per ripartire Perché siamo tornati indietro Di qualche minuto Comunque ragazzi Il senso di questo breve video È Date un'occhiata a Notime Se non l'avete fatto E sappiate che c'è La mod In italiano Nel workshop di Steam Quindi Ovviamente non risponderò Chi chiederà Perché ce l'hai in italiano L'abbiamo detto più volte in video Ragazzi Spero abbiate gradito Un abbraccio a tutti Alla prossima Ciao ciao